Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video, oggi torno con un video spacchettamento che non si vede sul mio canale da un'eternità, è davvero da tantissimo tempo che non registro questa tipologia di video ho accumulato un po' di prodotti nell'ultimo periodo, sono tutti, quasi tutti prodotti di make up li ho preparati tutti qui e direi di partire da Benefit un po' di settimane fa, forse anche più di un mesetto fa, ho ricevuto questo sacchettino dove all'interno appunto con la scritta roller liner, perché all'interno ci sono i nuovi, c'è il nuovo eyeliner di Benefit che io sto usando ormai da settimane e che amo quindi il primo prodotto che c'è all'interno, che poi è la novità, è appunto il roller liner che io sono già andata ad utilizzare, ormai da quando l'ho ricevuto lo sto utilizzando si può dire quasi tutti i giorni è un eyeliner nero, però esiste anche nella versione marrone, ha la punta in feltro, la punta è molto sottile è comunque rigida, quindi si riesce a fare una bella linea d'eyeliner senza andare a fare sbavature è davvero super pratica, anche per chi come me non ha proprio, cioè non è super brava a mettere l'eyeliner io con questo mi trovo davvero bene perché è super pratico in due minuti ho messo praticamente l'eyeliner, non sbava, mi dura tutto il giorno e adoro proprio la punta fatta in questo modo perché riesco a fare una bella linea senza andare a pasticciare troppo l'occhio il colore è super scrivente e poi è completamente matte poi oltre a quello all'interno della confezione c'era anche il roller liner, il famosissimo mascara di Benefit in realtà questo ancora non l'ho aperto, non l'ho utilizzato perché ne ho altri che sto utilizzando in questo periodo quindi questo me lo conservo, così quando vado a terminare quelli che ho aperto apro questo che comunque mi piace molto e che ho già provato da Benefit ho ricevuto un altro pacchettino, questo è stato un pacco più recente, credo che mi sia arrivato una decina di giorni fa dove all'interno c'erano questi pompon meravigliosi perché il prodotto contenuto all'interno è questa palette la Cheek Leaders quindi una palette ispirata appunto alle cheerleaders ecco quindi il perché di questi pompon graziosi che credo di non buttare perché sono troppo belli questa è la palette che era contenuta all'interno del pacco, la Cheek Leaders Peer Squad oltre a questa versione c'è un'altra palette che ovviamente potete trovare da Sephora sono già disponibili e costano 65 euro all'interno ci sono 5 prodotti per il viso, 5 prodotti in polvere ci sono sia blush, sia bronzer che illuminanti tra cui questo nuovo illuminante oro rosa che ragazze è bellissimo, c'è davvero fantastico l'ho già utilizzato diverse volte e lo amo, si sfuma benissimo a questi micro glitter all'interno però poi più di tanto sul viso non è che si notano troppo perché non sopporto, cioè non amo troppo gli illuminanti quelli super pini di glitter questo in realtà li ha però poi una volta sfumato non si vedono più di tanto oltre ai prodotti c'è anche questo pennellino e la palette appunto come vi dicevo prima costa 65 euro ma in realtà se andate a prendere singolarmente tutti i prodotti spendete molto molto di più, ecco perché conviene solitamente acquistare le palette se amate poi questi prodotti, se vi piace fare un po' di contouring se vi piace il blush, insomma se vi piacciono i prodotti per il viso prendetela perché è davvero una palette super valida adesso passiamo a Pixi di Pixi ha diversi prodotti da farvi vedere perché come sempre loro mandano un sacco di cose ogni volta con Pec che tra l'altro è bellissimo guardate ad esempio questa scatola quanto è bella ed è super grande questa scatola però mi è arrivata tipo da una vita da una vita davvero che ce l'ho qui a casa ma credo di avervela fatta vedere sono quasi sicura su Instagram Stories ma all'interno cosa c'è? voilà! ecco qua adesso quasi esco esce dall'inquadratura la confezione comunque all'interno ci sono due palette di illuminanti barra blush con diverse tonalità quindi si parte dalla tonalità più chiara e si va via via al tono più scuro c'è questa più rosata e invece c'è questa un po' più aranciata oltre a questo all'interno c'era anche questa graziosissima vediamo se riesco a tirarla fuori questa graziosissima ring light che si può mettere tranquillamente portatile ovviamente a portare in giro che si può mettere appunto sul telefono in questo modo si accende la luce ci sono tre impostazioni di luce differenti e voilà! siamo pronte per scattarci un bellissimo selfie o volendo anche per fare delle stories su Instagram quando la luce non è delle migliori e queste appunto sono le due palette passiamo da questa dal tono un po' più aranciato un po' più chiaro questa è la versione un po' più chiara quindi si parte appunto dal tono più chiaro via via andando verso quello più scuro e ha all'interno dei micro brillantini dei micro glitter volendo si può prendere tutto il prodotto oppure potete prendere la versione più chiara se volete illuminare con il colore più chiaro davvero versatile però secondo me non sembra super super scrivente mentre l'altra ha i colori decisamente più accesi più sur e rosa vediamo un po' questa com'è ma in realtà dopo non sono super scriventi sono abbastanza delicati come colori questa sì è un pochettino più rosata però poi non è che si vede tantissimo la differenza tra una e l'altra le proverò comunque sul viso perché ancora non ho avuto modo di provarle proprio perché ho tantissimi prodotti come questi quindi blush illuminanti aperti però le proverò e vi farò sapere poi sempre da pixie ho ricevuto questa borsettina che è davvero graziosa e all'interno ci sono un sacco un sacco un sacco di prodotti di skin care cioè guardate qua che po' di roba che c'è all'interno sono tutti prodotti di skin care quindi tutti prodotti per il viso alla rosa tra l'altro personalizzato anche con il mio nome inoltre questa valigetta è anche fatta in modo da poterla appendere perché qui vedete c'è questo gancettino quindi volendo si può appendere nel bagno di un hotel o comunque anche nella vostra stanza e poi ci sono contenuti tutti questi prodotti qui mi hanno mandato proprio anche il foglio con tutti gli step il primo step è ovviamente struccarsi quindi ci sono le salviettine struccanti che sono queste qui molto 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 compatte abbastanza piccoline quindi davvero perfette da portarsi in viaggio in valigia perché davvero sono minuscole guardate poi il secondo prodotto invece è un detergente per lavarsi il viso che è questo questo è in versione decisamente grande quindi magari un po' meno pratico da portare via perché se si portano in tutti questi prodotti inizia a diventare abbastanza complicata la cosa il terzo step ovviamente è il tonico anche questo è il tonico alla rosa questo in mini size questi prodotti di pixie alcuni li ho già provati altri invece sono nuovi anche per me però con i prodotti di skin care di pixie io devo dire che mi trovo sempre molto molto bene e il loro tonico lo amo cioè davvero mi piace un sacco poi abbiamo il quarto step che è questo quindi si tratta di un gel che si può applicare mattina e sera su tutto il viso dopo aver passato il tonico poi il quinto step è questo è un balsamo questo l'ho già provato sì che volendo si può utilizzare anche come primer oppure come maschera lasciandolo agire per qualche minuto in più poi abbiamo il sesto step che è questo quindi un altro prodotto in crema un'altra crema idratante insomma da applicare sul viso madonna quanti ce ne sono poi abbiamo il settimo step che invece è un siero ed eccolo qua questo non l'ho mai provato ho già provato di pixie altri sieri per il viso ad esempio sto utilizzando il siero riparatore da notte che mi piace davvero tanto e poi siamo finalmente arrivati agli ultimi due prodotti di questa mega super precisa skin care prima si utilizza questo spray fissante per il makeup quindi quello nella versione più chiara e l'ultimo prodotto che va a completare questa skin care è sempre uno spray da applicare sul viso questo è uno spray illuminante che va quindi a donare luminosità al vostro viso un po' di prodotti come vi dicevo li ho già provati alcuni li ho già provati e terminati altri invece sono proprio nuovi anche per me quindi dovrò andare a testarli per bene poi sempre di pixie tra l'altro fa parte di un è praticamente l'ultimo pacco che ho ricevuto ma ho perso per casa ebbene si per casa ho perso la confezione esterna che tra l'altro era bellissima all'interno comunque non ce l'ho da farvela vedere perché non la trovo comunque all'interno c'erano due palette una è questa dai toni un po' più freddi ci sono alcuni colori matte e alcuni colori shimmer comunque con con un sottotono decisamente freddo che tra l'altro è la palette che ho usato per il trucco di oggi l'altra palette invece è questa che ha colori decisamente più caldi però questa palette è tutta tutta completamente shimmer quindi quando vado ad utilizzare questa palette in realtà poi in comune utilizzo un'altra utilizzo altri ombretti perché non mi piace andare a creare un trucco completamente shimmer quindi utilizzare da sola questa praticamente molto belli e poi oltre a queste palette all'interno c'erano anche tre pennellini uno da sfumatura uno per applicare l'ombretto sulla palpebra e questo che utilizzo per questo più piatto che utilizzo per applicare gli ombretti shimmer nella parte centrale dell'occhio sono tutti zozzi perché li ho usati anche per questo trucco e quindi devo lavarli e questi erano contenuti all'interno di una pochettina carinissima di una bella scatolina verde che anche questa ho perso in casa cioè non la trovo ho ribaltato tutto oggi ma non l'ho trovata e quindi nulla ve li faccio vedere così poi passiamo a un altro pacchettino allora partiamo da questo questo mi è stato me l'ha mandato Clinique all'interno ci sono due prodotti c'è lo struccante e c'è il mascara in realtà io ho confezionato di nuovo tutto perché sono stata super super brava ma lo struccante lo sto utilizzando ormai da una settimana lo adoro ma in realtà questo l'ho già provato l'ho già anche terminato e mi è piaciuto tantissimo infatti appena l'ho ricevuto l'ho subito aperto ho iniziato ad utilizzarlo perché strucca alla grande questo è il take the day off in versione versione liquida che serve per andare a rimuovere per bene il trucco degli occhi e delle labbra non lo utilizzo molto sul viso perché è abbastanza oleoso quindi per il viso preferisco utilizzare una classica acqua micellare però per struccare occhi mascara i rossetti quelli a lunga tenuta è davvero fantastico ragazzi mi piace un sacco e poi c'era anche un mascara che hanno messo proprio per dimostrare quanto questo take the day off sia fantastico per andare a struccare anche i mascara più difficili da togliere non vado ad aprirlo perché come vi dicevo prima ne ho davvero diverse di mascara aperte quindi prima preferisco terminare gli altri e poi vado ad utilizzare quelli nuovi quindi me lo conservo anche questo che tra l'altro non ho mai provato quindi sono curiosissima di vedere i risultati che dà poi all'interno di questa scatolina come si può vedere ci sono dei prodotti di Puro Bio Puro Bio ha lanciato una nuova collezione di skin care quindi dei prodotti dedicati alla cura del viso il primo prodotto è questo che ancora non ho provato ma probabilmente stasera mi faccio una maschera e poi vado a provare anche questo panno è un panno completamente naturale che va a pulire a fondo favorendo la rimozione di impurità cellule morte e residui di makeup va a disfogliare delicatamente e si può utilizzare anche per rimuovere le maschere viso quindi davvero stasera sicuramente me lo provo e all'interno di questa scatolina deliziosa ci sono le nuove maschere che ha lanciato Puro Bio queste sono le maschere sono quattro ci sono due versioni più piccoline che sono delle classiche maschere in crema e ogni maschera ha il nome di una donna quindi ad esempio questa si chiama Brenda è una maschera in viso in crema realizzata con acido ialuronico questa è indicata per la pelle secca e poi c'è questa Miranda che è realizzata sempre con acido ialuronico alla mandorla mentre invece questa è all'uva verde e questa è indicata per la pelle grassa quindi probabilmente stasera questa me la provo e poi ci sono queste due versioni un pochettino più grandi che sono diciamo da preparare in casa perché bisogna utilizzare il contenuto della busta ed aggiungere dell'acqua per andare a preparare poi la nostra maschera che si va ad applicare sul viso poi solito si lascia agire e bla 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 insomma le solite cose questa per pelle grassa si chiama Olivia ed è realizzata con latte di spirulina questa per pelle secca invece si chiama Kelly ed è realizzata con il fico sicuramente le proverò tutte quante perché davvero mi ispirano tantissimo e poi l'ultimo pacchettino mi è proprio arrivato l'altro giorno arriva sempre da puro bio questa è la confezione e all'interno ci sono un po' di cose innanzitutto c'è una candelina che mi hanno detto di conservare perché ogni volta che uscirà un nuovo prodotto invieranno anche una candelina e di conservarla perché poi alla fine dell'anno bisognerà insomma accenderle tutte insieme quindi me la conservo poi la novità quella è la novità principale è il double double cream mascara che anche questo non vedo l'ora di provare questo però probabilmente lo proverò perché devo dire che mi incuriosisce davvero molto nonostante ripeto ho diversi mascara aperti però questo forse a questo forse non riesco a resistere quindi credo proprio di provarlo in queste settimane e poi ci sono questi prodotti per labbra di diverse colorazioni quindi abbiamo questa che è la colorazione 03 quindi sono partita credo dalla più scura poi c'è questa che è la numero 02 che è un pochettino più chiara tra l'altro mi piace molto la confezione in questo modo anche se probabilmente non deve essere molto pratica e poi c'è questa che ovviamente è la 01 un po' più più aranciata e poi l'ultimo prodotto è questo un prodotto per fissare e rinfrescare il makeup acqua fissante e makeup con acido ialuronico ovviamente tutto tutto bio e anche questo prodotto devo dire che non vedo l'ora di provarlo anzi quasi quasi lo proviamo insieme vediamo cosa dice qua vaporizzare su tutto il viso dopo aver ultimato il makeup proviamo il profumo è abbastanza buono devo dire mi sembra di sentire del limone vediamo no ok il limone non c'è stratti di camomilla e di caprifoglio papaya frutto della passione mango e fico ok il limone non c'è però me sembrava di sentire profumo di limone adesso ovviamente deve vaporizzare per bene sul viso è bello fresco la sensazione è super piacevole ok vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho ricevuto nell'ultimo periodo spero che questo video vi sia piaciuto ma comunque spero semplicemente di avervi tenuto compagnia come sempre vi invito a mettere un pollicino in su se questa tipologia di video vi piace così magari ogni tanto alcuno delle cose e poi vi registro il video iscrivetevi al canale mi raccomando per non perdervi tutti i miei prossimi video vi mando un mega bacio e noi ci vediamo presto in un nuovo video ciao ciao